Blues Bergamasco, sesta parte. Con questo spirito mi sono avviato alla nuova vita, stanziato nella caserma Narumma di Milano, terzo reparto celere. Tornavo a casa solo qualche weekend. La frenetica Milano degli anni Ottanta, la Milano da bere, era per me già un'infinita prateria in cui inseguire le avventure che aveva a lungo vagheggiato. Meno esaltante, considerata la mia indole, si è rivelata la vita in polizia. I primi anni di una matricola non rispecchiano esattamente la figura di Al Pacino in Serpico. Per qualsiasi minima iniziativa occorreva l'autorizzazione di un superiore. L'utopica foga dell'idealista che c'era in me si scontrava ogni giorno con una rete di regole, seppur giustificate, e cavilli burocratici che soffocavano il mio impeto. Spesso ero di stanza in Piazza del Duomo, dove 24 ore su 24 era presente un reparto mobile composto da un graduato, quattro agenti e l'autista del blindato. Gli agenti, turnandosi a coppie, presidiavano la piazza e la galleria Vittorio Emanuele II fino a Piazza della Scala, sorvegliando anche le vie circostanti. Un pomeriggio sono di turno con un mio collega. Facciamo il giro della galleria con la divisa e le mitragliatrici M12, con la sicura rivolte verso il basso. Siamo quasi al centro della galleria, dove la luce filtra dalla grande volta. Sentiamo degli schiamazzi in una via laterale. Seguiamo urla terribili accompagnate da tonfi sordi. Ci troviamo davanti ad una scena cruenta. Due giovani uomini di colore si azzuffano, colpendosi con pesanti statuette di legno. Nella foga della rissa riconosciamo un elefante di ebano e quello che sembra un vecchio coltello, una sorta di piccolo macete. Sono avvinghiati e coperti di sangue. Il collega intima fermi polizia mentre io vado a dividerli. Non faccio in tempo a mettermi in mezzo che i due si disperdono, fuggendo in direzioni opposte. Sicuri che la lotta riprenderà a breve, a pochi metri di distanza, corriamo al blindato per chiedere istruzione al graduato. Ci viene detto che non è il caso di procedere. La rissa è stata interrotta, evitando le peggiori conseguenze. Lo stesso graduato, con pragmatismo, sostiene che simili liti capitano di continuo fra i venditori ambulanti. Sono rimasto attonito, senza poter dire nulla. Per tutta la sera mi sono tormentato all'idea che quei due ragazzi, poco più grandi di me, si fossero massacrati a vicenda. Avrei voluto correre a cercarli, ad assicurarmi che non si aggredissero di nuovo. Mi chiedevo dove fossero. La responsabilità del sangue versato mi pesava. L'impotenza che mi ha pervaso allora è tornata molte altre volte, durante l'anno e mezzo che ho passato in polizia. Semplicemente avevo troppa vita, troppa voglia di libertà per riuscire a imbrigliarla in quelle regole, per quanto giuste.